Noto, la Polizia di Stato denuncia un uomo per inosservanza del provvedimento di rimpatio con foglio di via obbligatorio. Agenti del commissioneato di Noto hanno denunciato un giovane di 22 anni già noto alle forze di polizia per inottemperanza del provvedimento di rimpatio con foglio di via obbligatorio emesso dal questore della provincia di Verona. Il provvedimento di rimpatio prevede il divieto di ritorno per tre anni nel comune di Verona e la presentazione del commissariato di Noto entro due giorni dalla notifica. L'uomo non curante del provvedimento non si presentava né faceva pervenire a valida giustificazione e per tali motivi è stato denunciato.